Musica Musica Abbiamo scelto l'azienda Cubotex perché in Cubotex abbiamo trovato un'azienda giovane, flessibile e tecnologicamente avanzata e ha saputo interpretare la nostra filosofia di tintoria nel modo migliore. Ha realizzato chiave in mano un impianto semiautomatico che garantisce sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della qualità degli standard elevatissimi. Tutto il discorso di caricamento della centrifuga su canne porta dei notevoli vantaggi perché evita qualsiasi tipo di manipolazione delle rocche. Alla luce dei risultati ottenuti fin da subito, l'azienda sta già valutando in un prossimo futuro l'ampliamento del settore tintoriale proprio per poter essere autonomi al 100%. Riteniamo ancora una volta che Cubotex ci possa seguire in questo discorso e ci possa dare tutto il supporto possibile che richiediamo ai nostri partner. Grazie a tutti!